Una donna di Montevarchi, provincia di Arezzo, si è trovata a pagare 133,92 euro per il consumo di un solo kilowatt, avendo sottoscritto un contratto con un gestore per il suo garage. Il movimento consumatori solleva il caso, avvertendo di fare attenzione alle firme. La signora rettina sembra aver commesso un errore, optando per una tariffa flat a prezzo fisso che comportava un costo di 100 euro a bimestre, oltre alle quote fisse, portando il totale a quasi 134 euro. Il caso lo solleva il movimento consumatori, che lancia un monito. State attenti a quello che firmate. Sempre più spesso, presso le nostre sedi, si recano numerosi cittadini con le proprie bollette da capogiro. Purtroppo, il più delle volte, tali bollette non contengono nessuna incongruenza o errore da parte del gestore. La cifra, che a prima vista può sembrare un errore, deriva semplicemente da una modifica unilaterale della società, alla quale non è seguita nessuna azione da parte del cliente. Commenta il presidente del movimento consumatori Arezzo, Armando Mansueto. Arezzo, Armando Mansueto. Arezzo, Armando Mansueto. Grazie. Grazie.